Come migliorare le proprie competenze in ambito finanziario? Partendo da zero senza sapere niente di finanza personale di investimenti è molto semplice basta studiare che lo faccia con i percorsi GpInvest o in modo autonomo è sostanzialmente indifferente l'importante è che dedichi tempo, energie, risorse ad aumentare le tue competenze e un modo per farlo chiaramente è leggere dei libri in questo video voglio rinfrescare un vecchio video che feci molti anni fa in cui proponevo dei libri da leggere e lo aggiorniamo al 2020 quindi in questo video nove libri che dovresti assolutamente leggere per migliorare le tue competenze finanziarie ed investimento iniziamo il primo libro che devi leggere se vuoi acquisire queste competenze in modo autonomo è di Intelligent Investor di Benjamin Graham attenzione attenzione perché è stato tradotto in italiano si nell'estate 2020 è uscita alleluia la versione in italiano perché molti di questi libri purtroppo purtroppo o per fortuna insomma dipende non hanno la traduzione in italiano io li ho letti tutti in inglese ormai anche se c'è la versione in italiano preferisco quelli in inglese quantomeno tengo fresco l'inglese perché non ho più occasioni come in passato per parlarlo questo libro è una toma di questa dimensione e sicuramente serve molta determinazione per poterlo affrontare ma il fatto che adesso sia in italiano riduce parecchio le barriere all'ingresso per poter accedere e fruire dei contenuti di questo libro perché dovresti leggerlo e perché Warren Buffett in persona oltre a me ti suggerisce di leggerlo bene le ragioni sono che questo è un po' la bibbia dell'investimento in azioni in altre parole permette di capire che cos'è un investimento come fare un investimento in modo consapevole e senza farsi prendere dall'euforia dei mercati che in un attimo si trasforma in depressione dei mercati infatti introduce il concetto di mister market cioè che il mercato si muove come se fosse una persona fortemente lunatica che alterna giorni di grande ottimismo a giorni di grande depressione bene questi concetti sono fondamentali per un investitore che vuole capire come utilizzare il proprio denaro in modo consapevole orientato al rendimento di lungo periodo minimizzando le perdite e che sia in grado di fare tutto questo sviluppando una propria idea che è indipendente da quella del mercato da mister market perché è una delle caratteristiche principali degli investitori di successo è quella di riuscire ad avere delle opinioni che non sono necessariamente in linea con le opinioni del mercato Warren Buffett è noto per essere stato ad esempio nel 2000 lontano da tutte le aziende tecnologiche che stavano crescendo perché eravamo nel periodo della scoperta di internet bene lui ne è stato lontano non ha acquistato quel genere di titoli azionari per un paio di anni non ha avuto grandi performance perché il mercato stava crescendo tantissimo ma poi la bolla è scoppiata e quindi lui ne ha risentito meno degli altri questo è un esempio di investitore che è riuscito ad avere un'opinione e un'idea indipendente da quella che era il sentiment o le opinioni del mercato le azioni tecnologiche erano azioni calde tutti pensavano che con quegli titoli avresti fatto il botto e poi in realtà hanno fatto davvero il botto è andata proprio così insomma The Intelligent Investor è il primo libro da leggere un libro fondamentale e nell'ambito dei best seller di investimento è proprio un masterpiece il libro da cui partire il secondo libro che ti suggerisco di leggere è Think and Grow Rich in italiano direi si chiami Pensa e arricchisci te stesso che è una traduzione pessima diciamo che anche il titolo in inglese non sia bellissimo ma il punto è che questo libro visto così dal titolo sembrerebbe essere l'ennesimo libretto motivazionale sì diventeremo tutti ricchi ecco non è questo è un libro intanto la cui storia è incredibilmente affascinante perché è stato scritto da Napoleon Hill all'inizio del 1900 ed è un libro sì in parte motivazionale ma è il primo libro di questa nicchia che poi è diventato i libri di motivazione eccetera perché all'inizio del 900 Napoleon Hill era un giornalista che non aveva un grande futuro come giornalista diciamo ma all'occasione di conoscere Andrew Carnegie che era un famoso industriale dei primi del 900 di fine dell'800 anche famoso perché aveva le acciaierie Carnegie ok ed era uno degli uomini più ricchi dell'epoca bene Andrew Carnegie commissiona a Napoleon Hill un libro per cercare di spiegare certi concetti che avevano contraddistinto il suo percorso imprenditoriale e la sua crescita come imprenditore in poche parole voleva creare un libro che racchiudesse un po' il suo segreto del successo quindi commissiona Napoleon Hill questo libro Napoleon Hill ha l'opportunità di intervistare Andrew Carnegie ripeto fai qualche ricerca online ai tempi era uno degli uomini più ricchi del mondo e altri 500 imprenditori di grande successo dell'epoca che facevano parte della sfera di conoscenze e di amicizie di Andrew Carnegie quindi il risultato è un libro intanto che ha 100 anni di storia ed è uno dei best seller più più noti nel settore motivazionale da lì in poi potresti anche dimenticarti tutti i libri di quella stessa nicchia perché questo è l'unico libro che vale la pena leggere ma ha in mano un libro che spiega come avere una mentalità orientata al raggiungimento di risultati in ambito imprenditoriale ma nella vita in generale come gestire ad esempio il network di persone che ti circondano introduce per la prima volta il concetto di mastermind cioè il fatto di circondarsi di persone che ti aiutino a migliorarti e che siano complementari a te ok circondarsi di yes man di persone che dicono bravo Giorgio sei il migliore del mondo sì ok appaga il tuo ego ma non ti aiuta a migliorarti e in due parole ti permette di capire come ragiona chi ha raggiunto grandi successi in ambito di imprenditoria in ambito di investimento prevalentemente di imprenditoria non siamo all'interno del mondo dell'investimento siamo all'interno del mondo dell'imprenditoria del miglioramento personale ma secondo me ed è la ragione per cui ti suggerisco di leggerlo è profondamente complementare ad altri libri che sono più concentrati sul tema degli investimenti quindi Think and Grow Rich è il libro numero due libro numero tre un altro classico Rich Dead Poor Dead quindi padre ricco padre povero di Robert Kiyosaki questo libro ha dei concetti molto semplici il più importante secondo me è il concetto di debito buono e debito cattivo ok il fatto che il debito buono è quello che ti permette di pagare un investimento ad esempio faccio un mutuo per finanziare un'abitazione che metta a reddito quindi il reddito l'affitto dell'abitazione paga la rata del mutuo e c'è anche un po' di margine quello è un esempio di debito buono debito cattivo è il debito per comprare la macchina o il cellulare ok concetti di base che avrebbero dovuto insegnarci a scuola questo è stato un caso editoriale perché è di metà degli anni 90 non so in quanti miliardi di copie è stato venduto è vendutissimo come libro e oltre a questo concetto da altri concetti basilari su come raggiungere obiettivi in ambito finanziario imprenditoria e a tratti miglioramento personale il fatto che ad esempio come per la gestione del debito c'è una profonda differenza di mentalità tra le persone che si rovinano finanziariamente parlando e invece le persone che raggiungono obiettivi ambiziosi per le proprie finanze e per quelle della propria azienda e della propria famiglia c'è proprio una mentalità differente e questa è racchiusa nei due padri che ha avuto Robert Chiosacchi è una metafora quella dei due padri padre ricco e padre povero non ti spiego chi è il padre ricco e il padre povero anzi sì te lo spiego padre povero era suo padre il padre ricco è un padre della storia diciamo che ha creato che gli spiega i principi di gestione delle finanze e degli investimenti che avrebbe dovuto insegnargli il padre povero insomma un grande classico anche questo da leggere assolutamente libro numero 4 il milionario della porta accanto the millionaire next door anche questo l'ho commentato e citato in altri video questo è un libro fondamentale a mio parere perché ti fa capire come per quanto sia stato scritto negli anni 90 ok è relativo agli Stati Uniti non è esattamente la realtà che viviamo noi in Italia nel 2020 ma ti fa capire come persone che hanno raggiunto una certa sicurezza finanziaria un certo livello di benessere finanziario sono partiti da zero l'80 per cento dei milionari americani quindi chi ha raggiunto un patrimonio di almeno un milione di dollari di allora metà degli anni 90 quando è stato scritto lo è di prima generazione cioè vuol dire che non ha ereditato questi soldi ma li ha guadagnati risparmiati investiti e accumulati solo il 20 per cento di questi li ha ereditati questo è incredibilmente interessante soprattutto incredibilmente coerente con l'altra statistica cioè la maggior parte delle persone che ereditano un patrimonio non ha le competenze finanziarie per poterlo gestire e nella maggior parte dei casi perde tutto nell'arco di una generazione dobbiamo fare qualche esempio di milionari che sono andati in rovina tantissimi o di gente che ha vinto la lotteria che poi ha perso tutto perché non era in grado di gestirlo fai qualche ricerca su google e ne troverai a milioni di casi come questo quindi questo è un libro altamente motivazionale nel senso che con la statistica perché basato su studi e interviste a un migliaio almeno di milionari americani ti fa capire come una persona normale con le giuste abitudini le giuste competenze la giusta determinazione può raggiungere risultati in ambito finanziario veramente veramente importanti libro numero 5 a random walk down wall street a spasso per wall street di Barton Manchiel questo è un altro libro strafamoso perché introduce un paio di concetti fondamentali innanzitutto il concetto di random walk cioè di casualità dei mercati nel breve periodo cosa che ripeto molto spesso su questo canale fa capire molto bene il dietro le quinte dell'industria dei servizi finanziari il problema del conflitto di interesse ehi sarà che in un video su tre parlo anch'io del conflitto di interesse sarà che è importante sì infatti troverai conferme anche da questo libro svela tantissimi falsi miti sul sogno di battere i mercati lo so la maggior parte di voi sogna di battere i mercati perché si vede da quello che cliccate quando guardate i video su youtube ok è palese che seguite questo sogno perché sennò questo canale avrebbe il quintuplo degli iscritti ma così non è perché su questo canale non facciamo false promesse là fuori è pieno di persone che appunto fanno false promesse e vengono seguiti da una popolazione che comunque cerca di raggiungere questo obiettivo di battere i mercati finanziari cosa che non è assolutamente necessaria per raggiungere i tuoi obiettivi finanziari fammi sapere se questo concetto ti è chiaro metti in pausa perché se non ti è chiaro farò un video dove te lo provo numericamente perché adesso abbiamo un software che si chiama Life Planner che permette di fare simulazioni in ambito finanziario quindi metti in pausa scrivimi nei commenti se ti è chiaro il concetto che non ti serve battere i mercati finanziari per raggiungere i tuoi obiettivi finanziari perché eventualmente farò un video dedicato quindi a spazio per Wall Street ti permette di approfondire molti dei concetti di cui parliamo su questo canale conflitto di interessi, investire seguendo gli indici con ETF o strumenti similari concentrarsi sulla pianificazione concetti di questo tipo libro numero 6 The richest man in Babylon l'uomo più ricco di Babilonia questo è un librino talmente semplice perché sarà, non lo so, 100 pagine l'ha letto mia moglie prima di andare a letto perché si è incuriosita quindi è talmente leggero che potrebbe leggerlo un bibbo di 10 anni perché è una serie di favolette su come gestire il denaro è veramente base, base, base ma secondo me è un libricino che ci sta bene all'interno di questa selezione perché è un altro best seller e spiega dei concetti i concetti che avrebbe dovuto insegnarci la nonna nel caso non l'abbia fatto di sana gestione del denaro in più introduce alcuni concetti di asset allocation cioè di ripartizione del capitale tra varie classi di investimento come l'impresa, la terra e il denaro liquido che è interessante perché è ambientato ai tempi dell'antica Babilonia quindi non so quanti migliaia di anni fa ma è interessante lo sforzo narrativo dell'autore perché è praticamente una serie di fiabe nel trovare delle analogie tra il mondo finanziario odierno e il mondo finanziario di allora perché queste tematiche comunque sono intergenerazionali questi principi di gestione del denaro sono indipendenti dalla generazione valevano ai tempi dell'antica Babilonia tra l'altro certi concetti li puoi trovare anche sul Talmud libro sacro ebraico fino ad arrivare ai giorni nostri libretto semplice si legge probabilmente in due serate da un'ora ciascuna ok? Da leggere libro numero 7 Common Sense or Mutual Fund di John o Jack Bogle quando sono andato negli Stati Uniti ho parlato con persone che lavorano in Vanguard che è appunto la casa di investimento fondata da Bogle neanche loro sapevano se si chiamasse Jack o John perché amava farsi chiamare in entrambi i modi bene, questo è un autentico messia nel mondo degli investimenti perché è stato il primo a creare gli ETF in realtà gli ETF sono un derivato dei fondi indicizzati all'americana ma il concetto di investire seguendo un indice è un'idea di Bogle e in questo libro spiega 1. il perché 2. il retroscena dell'industria finanziaria quindi del fatto che la maggior parte dei fondi non batte il mercato e ti spiega il perché cosa che spieghiamo anche noi su questo canale ma sono concetti che chiaramente vengono portati al grande pubblico di YouTube presi comunque da esperienza personale e da esperienza accademica perché alla base degli studi di Bogle c'è 20, 30, 40 anni di performance dei fondi nei mercati finanziari quindi questo come altri libri ti permettono di approfondire dei concetti già spiegati su questo canale se vuoi proprio fare un passo in avanti in termini di consapevolezza per quanto riguarda gli investimenti libro numero 8 è un libro molto vecchio che si chiama extraordinary popular delusion and madness of the crowd quindi non so questo non penso esiste in italiano si chiama delusioni straordinarie delle popolazioni e la follia delle masse secondo me questo è un libro incredibilmente importante per capire le forze che guidano i mercati finanziari che altro non sono che forze di natura umana perché gli operatori sui mercati sono investitori e sono tantissimi Mario Rossi sparsi in giro per il mondo o tantissimi John Smith in giro per gli Stati Uniti bene questi per quanto tra loro ci possano essere investitori più sofisticati di altri questi molto spesso si muovono in modo totalmente caotico e profondamente razionale questo è quello che porta alla formazione di bolle speculative e al loro scoppio e questo si ricollega anche al tema di Mr. Market The Intelligent Investor primo libro che ti ho consigliato per capire come investire nei mercati finanziari dal momento che questi sono coinvolti comunque dalle aspettative dall'operatività di migliaia di persone dalla massa è importante capire come ragiona la massa quali sono gli errori palesi che sono stati commessi dalle masse in termini di valutazioni sbagliate proprio nel passato e questi sono esempi del 1800 del 1700 la bolla dei tulipani del 1700 in Olanda quindi tanti casi che ti faranno capire come se vuoi investire in modo avanzato devi sviluppare una tua consapevolezza una tua visione di quello che potrebbe succedere ma il più possibile indipendente dall'opinione degli altri perché molto spesso in tantissimi casi questo libro ti farà capire questi concetti la massa sbaglia soprattutto nel breve periodo la massa potrebbe prendere delle cantonate veramente importanti dopo tutto se il mercato fosse efficiente nel breve periodo non esisterebbero le bolle finanziarie non esisterebbero dei crolli improvvisi da un giorno al giorno seguente invece nel lungo periodo quantomeno nei mercati finanziari la massa e i mercati riescono ad identificare il vero valore di un'azione o di un titolo finanziario nel breve invece dobbiamo capire che potremmo gestire un animale tra virgolette mister market profondamente irrazionale e che in molti casi ha dimostrato di sbagliare palesemente delle valutazioni perché? perché non è altro che il risultato di opinioni di persone di masse di persone e questo libro ti fa capire come stare attento all'opinione potenzialmente sbagliata delle masse lo so non sono concetti che fa particolarmente piacere pensare che magari i tuoi genitori stanno sbagliando ok? ma è così perché molto spesso all'interno delle masse ci sono dei fenomeni comportamentali proprio di finanza comportamentale di comportamento delle masse ad esempio l'earning behavior cioè la tendenza a seguire quello che fa la massa dopo tutto se lo comprano tutti vuol dire che è buono ecco questo è un esempio di earning behavior bene può portare a grandissimi errori già detto leggilo è un po' difficile perché in inglese e soprattutto il libro scritto a metà dell'ottocento ma ne vale la pena libro numero 9 torniamo su un libro generalista è Money Master the Game di Anthony Robbins e ti chiederai ma Anthony Robbins non faceva il motivatore com'è che adesso si è messo a scrivere libri di finanza personale? me lo sono chiesto anch'io in realtà lui essendo esperto di comportamenti umani perché è uno dei più noti formatori di leadership di motivazione personale di miglioramento personale ha iniziato a collaborare con società di investimento diventando appunto l'esperto dei comportamenti umani perché? perché la finanza e gli investimenti come negli altri libri di cui ti ho parlato ha una relazione profondissima con i comportamenti umani e con la psicologia delle persone quindi lui in quanto esperto in quella materia è stato coinvolto e se non mi sbaglio è anche ha proprio un ruolo dirigenziale all'interno di un fondo o di una casa di gestione di investimento americano quindi ha iniziato a scrivere libri in questo tema il primo è questo il secondo si chiama Unshakable mi sembra non valga la pena come Money Master the Game che è una toma di questa dimensione non mi ricordo se c'è in italiano io l'ho letto in inglese però è un altro libro che potrebbe essere simile a Spasso per Wall Street ma è interessante perché Tony Robbins per via delle sue conoscenze ha intervistato tantissimi milionari tra cui Ray Dalio e altri e quindi è un libro comunque aggiornato a 2010-2015 più o meno di quando è stato scritto è un libro piuttosto recente e che tratta tematiche aggiornate sul mondo degli investimenti e sul mondo della finanza personale molti dei libri che ti ho citato sono libri vecchi di 20-30 anni quindi magari per certe tematiche non sono più aggiornati invece Money Master the Game secondo me è un libro che non è che sveli chissà quali segreti ma è un libro conclusivo per dire bene ho letto i 9 migliori libri su questo tema mi sono fatto un'infarinata e con questo faccio un ripasso totale di tutte di tutte queste tematiche quindi questi sono i 9 libri secondo me una persona normale ha un libro e mezzo al mese potrebbe impiegare un annetto per leggerli è chiaro che serve tempo serve impegno qualche centinaio di euro per comprarli tutti niente di che ma ti permette di avere un'infarinata totale sul mondo degli investimenti della finanza personale di cosa è giusto e cosa è sbagliato in questa industria perché ci sono delle cose che sono palesemente giuste e delle altre cose che sono palesemente sbagliate e quando intendo palesemente vuol dire che ci sono centinaia e centinaia di studi che lo confermano e gp invest si basa sugli studi perché io in quanto ingegnere non riesco a sostenere delle tesi che non sono supportate da prove numeriche dati o o comunque una sostanza numerica finanziaria tutte le opinioni tutto quello che nei nostri corsi è basato su prove numeriche statistiche di quello che è dimostrato funzionare nei mercati finanziari questi nove libri ti permettono di fare un'infarinata generale di queste tematiche è chiaro che molti di questi libri sono commerciali quindi ti danno un'infarinata ma difficilmente riuscirai ad andare molto in profondità questo devi saperlo perché per andare in profondità serve esporsi ad altri contenuti come ad esempio delle pubblicazioni ok dei white paper quindi non è detto che tu rieschi ad andare troppo in profondità o molto in profondità come desideri ma ti permette di avere una visione orizzontale della finanza personale degli investimenti fammi sapere se c'è qualche altro libro che tu avresti ritenuto importante e che magari non ho menzionato sicuramente c'è perché io non ho letto ormai diverse centinaia e questi sono quelli che mi sembrano più adatti ad uno che deve partire da zero ma poi magari in un altro video farò i prossimi dieci libri che dovresti leggere dopo aver letto questi nove fammi sapere cosa avresti aggiunto tu nei commenti con questo è tutto ci vediamo in un altro video ciao vuoi sapere come abbiamo aiutato migliaia di persone a diventare maggiormente consapevoli nella gestione delle proprie finanze e dei propri investimenti se sì ti invitiamo ad iscriverti ad un corso intitolato divento un investitore consapevole primo è gratis secondo è stato creato nel tuo esclusivo interesse terzo ti insegnerà dei concetti di finanza personale di gestione del tuo investimento veramente fondamentali concetti che avrebbero dovuto insegnarci a scuola ma che purtroppo nessuno ci ha mai spiegato puoi accedere al corso in modo totalmente gratuito alla pagina www.gpinvest.it slash benvenuto se questo video ti è piaciuto clicca mi piace e ci vediamo nel prossimo video